Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo con Ilario, ovvero Napking 2. Purtroppo non posso darvi il suo ID, quindi non vedremo il suo profilo, così non vedrete il suo ID. Però vi ricordo che qua c'è il mio. Sotto la foto di Dick c'è il mio ID per avermi tra gli amici. Sì, anche perché comunque guardate, il trofeo l'ho preso, però sono sceso di 30 coppe e anche con bombardino che stavo a 480 e qualcosa, la sono scesa fino a qua. Ma non l'ho fatto apposta perché non ce la faccio, ho perso un sacco di gioco. Bella raga ha detto. Bella, sentiamo me. Bella anche a Ate. Ate. Scriviamo Ate. Ok, giochiamo. Vediamo di perdere altre coppe. Ilario come vedete c'ha Frank, però il suo profilo, che non profilo, quindi consiglio a Brawler che devo sapere vedere. Su questo profilo vi mancano tutti i leggendari, Emmaz e Mr. P. C'ha tutti gli epici, tutti i super rari, tutti i mitici tranne Mr. P, tutti i leggendari e poi Emmaz. Ilario c'è quasi, ma non come il mio amico GX, Mario GX, che lui c'ha 13.000 coppe. E' un bello bombardino stregone, ma già l'ho detto. Credo di sì. Faccio io, Frank, do una mano. Se brucio queste erbe, perché se devo scappare potrebbe darmi fastidio. Oh cacchio, Emmaz. Wow, la battuta! Ok, Ilario curati. Oh no, Eugenio. Dai, dai, ce la potevo fare. You will spin. Ok, allo, 300. Sto al grado 19, quindi mi mancano 40 coppe, quindi, cioè, devo anche risalire al grado, questo qua. Sono veramente, io ho perso veramente tante, tante coppe. Aspetta, fammi vedere. Frank, dove ce l'ha? Non c'è la nei meandri dei brawler, no? Vabbè. Diciamo di metterci tara. Ok, ok. Solo mettere tara, vabbè. C'hanno Spike. Oddio, ma che Spike è? È Spike Automa. O Automa? Quello là, insomma. Spike Automa. Guardate che schifo, quello là tutto fognario. Col vaso di M in testa. Ah! 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 Ma ha ammazzato la TIC-ED. La TIC-ED. Testa è ZIC. No, 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 no! Oh! A me le coppe servono! Pezzi di M, a me servono le coppe! Non so se voi le volete perdere, ma a me servono! Servono! Ma guardate quante ne perdo Ma faccio a recuperarle Già uscito Anche loro c'hanno Frank Ma loro c'hanno Bibi No Bibi è pericolosa E' l'unica battitrice che esiste nei brawler Credo che i cosi Sì quelli là insomma Si chiamino Allo tiratore Tank Supporto Supporto Lanciatore Che ce ne sono tre E poi lei è l'unica battitrice Ah no aspetta C'è Mortis Sicario veloce Poi Leon Sicario furtivo Poi c'è Corvo Sicario tossico E basta Credo Mamma mia Sto Frank Avete notato che di lanciatori ce ne sono soltanto tre Bombardino Dynamike Ma dai che fail Bombardino Dynamike Tick Tick No la mia super Dai me l'ha passata al momento sbagliato Quella cacchio di palla E mo so io che lo fallo Tieni Ilario Non ce la farà mai Ecco Dai abbiamo ancora un minuto per fare un gol e recuperare almeno andare nei supplementari Ma se non lo facciamo entro un minuto Abbiamo perso No Ilario 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 E sto scendendo sempre di più Me lo voglio 8bit Mi serve Aspetta C'è qualcuno? No piena 3 ce ne sono qua da Jimmy Assedio facciamo No Ma Roma a te ma come passi? Passi? Vabbè non ho capito niente Ma come passi? Che vuol dire ma come passi? Vabbè via Nuovo robot tra 25 secondi No Ok non c'è nessun lanciatore Ok c'è un bullone c'è un bullone Ok nostro No proteggi il bullone Proteggi il bullone Il bull gigante Il bullone No devi morire Devi solo morire No Tatticità vieni a me Loro c'hanno due bulloni La cosa non mi piace Quindi raccogliamone altri Mentre sono impegnati con il robot Che muore molto facile Quindi Sbrighiamoci Dai qualche bullone E' su Dai Dai Ah bella coccinella Bella coccinella Ce n'è un altro Via 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 Nooo L'ho messo Loro sono a 77 No 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 Dai però quello che facciamo pareggio No Spirito Ci scassano a noi perché il nostro robot era di livello Ne ne so due Qualcosa del genere Nooo No, beh, ci sta aiutando il robot No, 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 no Non voglio perdere troppe coppe, ci servono Beh, è lì dentro Beh, è lì Io lo so che è lì No Sì, tu è trellato, stai dicendo No, 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 no Dovete morire male Sei? L'ultimo robot mi sa No Ma come? Come pareggio? Andiamo, siamo seri? Siamo seri davvero? È tutto fottutamente serio? Dai Dai Dai, ma come si fa? E dai, le coppe 421 500 trofei e ci sto provando Non posso mettere a Jesse, devo mettere il bombardino Scriviamo no Devo Poter 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 Siare Si è come Non si casa solo Brom Brann Drino Devo potenziare Brom Bradrino È tornato come prima Prima era 429 È tornato come prima Sono salito di grado Però per niente Perché il bombardino non serve in queste modalità No, non fa niente Ce lo facciamo da sole Le giocate Oh mio Dio Metti pronto una volta per tutte Cacchio, eh Devo potenziarlo Sto cacchio di bombardino E poi lo leviamo E basta Mamma mia Mamma mia La facciolta abbandono io No Mamma mia Pronto Ma dai Guardate che stronzo Fa sempre così Mentre non disturbare Così io non lo devo per forza chiamare Ma vedete quanto è scemo Non lo so Non c'è bisogno che glielo dite anche nei commenti Credo che l'ha capito Spero che glielo dico io Non capisce proprio che deve togliersi il vizio E ma mi guarda Non capisce che deve togliersi il vizio Di mettere Non disturbare Perché poi tanto lo sa che io lo chiamo Quindi è inutile Spreca L'impronta digitale Ah porco il dedo Meno male che bombardino non serviva In queste modalità Ma quali modalità Tutte le modalità Cioè vuol dire che non si può usare bombardino Tu questo mi stai dicendo? Ma porco il demonio Una roba Bistecca Un pociolone Pociolone Ah ok Pocioletto sconfitto Però Se non sbaglio c'è bistecca Ah rosona Rosona Il rosone Il rosone della chiesa Colto devi scappare Devi scappare È proprio come un pazzo Ma c'è anche un bisteccone là Bisteccone È morto bisteccone Oh cacchio una rosona C'era il succo nella nube Chi l'ha visto Metà like Ho anche vinto Eh Ho anche vinto Ma guarda Minco Sai che cosa non c'è? Se porto sfortuna Gioco più con lui Faccio solo con Federica Faccio video solo con Federica Fa anche l'antipatico Perché dice Non devo usare bombardino Ma se è quello Che ho detto all'inizio del video Credo Che devo potenziare bombardino Se lui mi dice di non usarlo Vuol dire che non ha ascoltato un cacchio È proprio scema Scema scegli Cioè vede che Frank Tank Sta facendo la super E si mette accanto a lui E mi guarda Ilario Mamma mia però Quando fa così L'odio proprio Maledetti figli Di quella Madre Prima mi guardavo E poi non più Ora ancora Mi guarda Ah mamma mia Mi spero che io so usare bene bombardino No Cioè so quando usarlo Tranne quando c'ho Il fuoco scarico Eugenio Letto E Beata Ma ero il proiettile Che si divide di Eugenio Non lo supporto proprio Non lo supporto proprio Torretto andato a fan Giorgio Scontro finale No 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 La scelluna 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 Tra poco non sarei più ona però Ona Ona Scelluna Vabbè recupero qualche coppa Perché mi servono Pure dalla Oddio Mi stanno inseguendo cacchio Avete visto questo Suatlo bene Aia Mi ha colpito Eh Sorpreso Un altro colto Mamma mia It's me Mario Vieni da me No lo sapevo Sapevo Mamma mia Sapevo Quanto va alla super Mi sorprendeva Una rosona Rosona Mamma mia Sto rosone Ma c'era anche coltone Vabbè c'era anche coltone Rockstarone Credo rockstarone Quante coppie ho portato a casa Quattordici Male Perché C'è Vabbè Jimmy Piena C'è vedete non riesco a cliccarlo Ha tolto il non disturbare Ha accettato stranamente Raga Bene ragazzi Bella Scusate per l'incazzatura E ci credo Vabbè ragazzi Noi vi salutiamo Manderà anche lui il ciao per voi Non lo so Vabbè Comunque Ci salutiamo Vabbè Noi non lo manda Vabbè Credo che sta scrivendo il chat Quindi prima di chiudere il video Vediamo cosa scrive Perché se è fermo e non fa niente Sta scrivendo il chat Io lo conosco bene E infatti E noi ci ribecchiamo Era rivediamo però ribecchiamo è più bello Ci ribecchiamo Aspetta Ci ribecchiamo Guardate che Così dice Becco Ci ribecchiamo Con Con corvo Questo lo lasci qua La prossima volta Sa vite Con corvo Sa vite In 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 Ac不 C In In